Gaza passa avanti verso la tregua, trattativa ad un punto cruciale, al TG1 parla il medico che curò Yayasin War, sanguinario capo di Hamas. Allora per gli ultimi aggiornamenti andiamo in diretta a Gerusalemme dal nostro corrispondente Giovanni Battista Brunori, a te. Dunque, mentre sono ore decisive al Cairo, anche in Israele, una delegazione israeliana si sa che arriverà, aggiungerà in Egitto non appena arriverà la risposta ufficiale di Hamas. Intanto gli occhi sono puntati sul ricercato numero uno di Israele, Yayasin War, il capo di Hamas a Gaza che dal luogo dove si nasconde comunque avrà la parola finale sulle trattative in corso. E ne abbiamo parlato con uno degli uomini che lo hanno conosciuto più da vicino durante la prigionia di Sinwar in carcere, il cosiddetto medico di Sinwar, Yuval Bitton. Nessuno sa dove si nasconda, ma dopo quasi sette mesi di guerra è ancora lui per Hamas a decidere su Gaza e sulla sorte degli ostaggi israeliani. Yayasin War, il regista del 7 ottobre, viene descritto da chi lo ha frequentato per anni come Yuval Bitton, il dentista del carcere di Nafa, poi divenuto capo dell'intelligence carceraria, come un uomo astuto e spietato che non scende a compromessi, determinato a salvare il potere di Hamas a Gaza. Sinwar ed altri uccisero con le loro mani 12 palestinesi, sospettati di collaborazionismo con gli israeliani. In prigione diede l'ordine di tagliare la testa a due prigionieri. Disposto a pagare un prezzo elevato per raggiungere i suoi obiettivi, senza proporzione in termini di vite umane, civili e militari, afferma Bitton, Sinwar si sente come un antico condottiero, come il Saladino. Pensa di aver già vinto la guerra, ha attaccato Israele come nessun altro leader arabo è riuscito a fare. In carcere gli ho diagnosticato un ictus e ho ordinato il ricovero in ospedale. I medici lo hanno operato per un'infezione al cervello. Il giorno in cui è uscito dal carcere, nel 2011, mi ha ringraziato per avergli salvato la vita. Il 7 ottobre Hamas ha ucciso nel kibbutz Niroz mio nipote. Ecco come mi ha ripagato.